Le parole parlano da sole, un vero e proprio arsenale è stato sequestrato ai 12 estremisti di destra indagati in questo martedì dalla DDA di Firenze. Oltre un centinaio le armi e gli oggetti sequestrati, ma ancora alcune cose devono essere catalogate. 12 perquisizioni effettuate dalla DIGOS, della Questura di Firenze e della Questura di Siena. Nell'ambito delle perquisizioni, che sono state molto impegnative e le cui operazioni non si sono ancora concluse, sono state sequestrate diverse armi e materiale esplosivo che sono quelli che vedete qui esposti, una parte di quelli che vedete qui esposti. Le accuse per i 12 sono detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un'associazione con finalità eversiva, in quanto nell'ambito di alcune intercettazioni si inneggiava al fascismo e al nazismo. Un'ambito di appartenenti all'estremismo di destra, residenti nella provincia di Siena. E nel mirino degli indagati c'era anche la moschia di Colle Valdelsa, da alcune intercettazioni. Infatti sarebbe emersa l'intenzione di far saltare il luogo di culto, sabotando una condotta delle tubature del gas. Tentativo che non venne portato a termine, perché uno degli indagati, un sessantenne di Siena, sarebbe stato contattato dalla polizia che aveva notato strani movimenti, proprio vicino all'edificio. Intanto ringraziamo la forza dell'ordine che sono riusciti a intercettare questa squadra che vuole seminare il panico, diciamo, tra la gente. Non ci allarmiamo perché questi sono, certamente non vogliono bene la stabilità del paese e vogliono sempre seminare il terrore. E dai colloqui intercettati emerge l'ipotesi che gli estremisti avessero idea di costruire una struttura qualificata pronte ad ogni evenienza. Il gruppo, infatti, sarebbe stato in procinto di costituire una vera e propria guardia nazionale repubblicana chiamata a intervenire, arma alla mano, e fare giustizia sommaria. E stando sempre alle intercettazioni, alcuni degli indagati sarebbero stati soliti collezionare materiale bellico. Uno degli estremisti avrebbe affermato di essere in grado di realizzare, in autonomia, silenziatori per le proprie armi. Un'inchiesta che potrebbe continuare anche nelle prossime ore.